La facoltà è cresciuta velocemente, come un bambino prodigio. Nel 2009 la classifica del Censis l'ha posizionata al primo posto tra tutte le facoltà di architettura d'Italia. Nelle aule delle quattro sedi i futuri architetti studiano secondo il principio dell'imparare facendo, la formula che privilegia da subito l'applicazione pratica delle materie di studio al progetto reale. Gli iscritti per ogni anno sono un centinaio, quasi il triplo quest'anno le domande di ammissione. Cinque corsi di laurea. Il segreto del successo della facoltà sta nella combinazione di vari fattori. I contributi di esperti da tutto il mondo, l'ottimale rapporto numerico tra studenti, docenti e tutores, il contesto ambientale offerto dallo splendido centro storico di Alghero. Ma vincente è soprattutto la linea strategica seguita con caparbietà sin dall'inizio. Noi abbiamo una strategia fino dall'inizio che riguarda lo sviluppo di quattro filoni didattici e di ricerca che sono architettura, urbanistica, design e paesaggio e direi lo sviluppo anche del processo di internazionalizzazione. Il futuro vedrà proprio questo sviluppo nel senso che già dal 2010 tutte le nostre specialistiche saranno internazionalizzate, quindi a titolo congiunto con Venezia, Girona e Lisbona per quanto riguarda urbanistica e Lisbona e Montpellier per quanto riguarda architettura. Il prestigioso riconoscimento del Censis è visto da architettura non come punto di arrivo ma come punto di partenza per nuove sfide.